Importante giornata di incontro con i comuni, con le istituzioni tutte, alla presenza delle associazioni di categoria degli albergatori e di tutte le strutture ricettive e con tanti operatori privati presenti. Sicuramente è stata un'unione per me come assessore al turismo e credo per tutta la Giunta un momento di confronto importante dove sono emerse tantissime richieste ma tutte molto concrete e tutto molto pratiche. Credo che questo sia stato il giusto modo di approcciarsi in questo momento con i problemi che sono collegati anche a questo dramma che è stato il terremoto. Abbiamo lanciato l'idea di creare un tavolo operativo tra i privati, tra le associazioni, le istituzioni tutte in modo che possano emergere e possano essere portati avanti quei progetti che vedano l'amministrazione regionale direttamente coinvolta per promuovere questi territori in Italia e all'estero e quindi far capire che le marche anche in questi territori hanno eccellenze e bellezze. Anche le sollecitazioni che arrivano dalle associazioni di categoria, dalla Federberg in particolar modo, quello di avere in tempi ragionalmente brevi e noi già abbiamo cominciato come Assessorato al Turismo questo percorso una serie di dati ufficiali dove si fanno con chiarezza un percorso delle strutture ricettive che hanno una criticità ma soprattutto le strutture ricettive che sono a norma antisismica. Noi stiamo elaborando questi dati, i dati che ci stanno arrivando sono già dati molto positivi perché tantissime strutture, quasi tutte le strutture sono a norma antisismica naturalmente prima di diffonderli vorremmo avere il quadrochiadro. Una volta definito questo promuoveremo anche questo aspetto che riteniamo molto importante cioè dare certezze e sicurezze ai turisti che arrivano nelle marche. La cosa più importante penso che la Regione debba fare una dichiarazione dove annuncia le zone colpite, le vere zone colpite e le zone che non hanno avuto nessun tipo di complicazioni. Questo è un aspetto importante e poi passano dei messaggi attraverso le televisioni pubbliche, private, social che secondo noi sono un po' troppo allarmistici, sono del vero e proprio terrorismo mediatico che compromette sempre di più il nostro territorio e la nostra Regione. Per quello che riguarda il calo delle prenotazioni c'è stato un abbattimento del 90% in alcuni punti logicamente più vicini alle zone dell'evento e per arrivare a un complessivo 50% del calo delle prenotazioni a partire dal 25 di agosto in poi quando avevamo una percentuale di presenze superiore al 15% nei mesi di luglio ed agosto nel nostro territorio. Settembre stava andando veramente bene, le prenotazioni erano molteplici e la situazione era veramente ottimale ma dopo l'evento purtroppo è crollato tutto e ci troveremo senz'altro a un fine anno con delle previsioni senz'altro negative. Noi abbiamo chiesto fondamentalmente un abbattimento immediato di quello che possa essere i contributi previdenziali e assistenziali da pagare. Poi un accesso al credito per quelle strutture che abbiano la possibilità di poter essere con poco rimesse a posto e possano operare. Inoltre siamo ben disposti a cercare di fare una programmazione turistica immediata del territorio di tutto il territorio regionale comprendendo anche specificatamente un focus sui territori interni.